Eccoci qui, è arrivato il momento, il momento decisivo, questa vigilia così importante della sfida forse più fondamentale degli ultimi anni L'Inter deve vincere contro il Barcellona e cercare la qualificazione agli ottavi di Champions potrebbe bastare un pareggio Anche una sconfitta solo se il Borussia Dortmund facesse lo stesso contro lo Slavia Praga però in casa Quindi diciamo che, anzi auguriamo ai tedeschi di vincere la loro partita Naturalmente avete capito la mia scaramanzia e quindi occhiale scaramantico Maglia di Lukaku lì appesa sperando che Lukaku riesca a fare una partita in Champions come l'ultima di Praga Dove è stato mostruoso con un gol, due assist, due reti annullate Una, veramente, un flagello per le difese avversarie Lui insieme a Lautaro Martinez, Conte naturalmente punta sulla sua coppia ad attacco Per cercare di bloccare il Barcellona E con la speranza che Messi o non salga proprio sull'aereo che porterà nel pomeriggio i Blaugrana a Milano O cominci dalla panchina Anche se c'è questa statistica che lui non ha mai segnato all'Inter Che potrebbe invogliarlo a giocare questa partita Però il Barça pensa alla Liga, alle due partite fondamentali Che attenderanno la squadra di Valverde dopo questa Champions In trasferta a San Sebastiano in casa della Real Sociedad Che è l'autentica sorpresa, rivelazione della Liga E poi il Superclassico con il Real Madrid Quindi logico pensare a un robusto turnover Però giocheranno Vidal, Rakitic, insomma Griezmann Gente di questo calibro Quindi anche se è turnover in campo Scenderanno dei top player E quindi sarà veramente molto molto difficile Motivo per cui serve un'impresa Unità di intenti San Siro Compatto Più di 70.000 spettatori Non ci sarà tutto esaurito Solo perché sarà mezzo vuoto O tre quarti Il settore ospiti Su 4.000 biglietti Ne sono stati venduti solo 1.000 E naturalmente mi raccomando Non vogliamo sentire più fischi Perché non si può rumoreggiare Con una squadra che è prima in classifica Con due punti in più della Juventus Addirittura con una partenza eccezionale Peccato solo per quelle due rimonte Subite in Champions Proprio contro il Barcellona al Camp Nou E a Dortmund Quando sembrava tutto già apparecchiato 2-0 alla fine del primo tempo Anche un pareggio sarebbe bastato Insomma Peccato veramente Perché l'Inter merita di andare avanti In Champions ha fatto vedere cose molto molto positive E in un gruppo più difficile Di quello dell'anno scorso Alla fine sta facendo Una grande bella stagione E quindi auguriamoci che domani Vada tutto per il verso giusto Buone notizie non ce ne sono Perché non recupera nessuno degli infortunati Gagliardini ancora out Così come Barella I sensi I sensi però vi ho già anticipato Che c'è una sensazione positiva Per rivederlo prima della fine dell'anno Nell'ultima gara Contro il Genoa Perché sta meglio Andrà anche questa settimana Dal professor Müller-Worffart A Monaco Per fare un controllo Farsi vedere E poi dovrebbe rientrare in campo Finalmente Speriamo Perché la sua qualità manca Così come Barella E Sanchez Che si rivedranno solo Nel nuovo anno Ma Ci sono problemi Anche per Asamoah Che è rientrato Che ha giocato da interno Gli ultimi minuti Della gara con la Roma E sente ancora Problemi al ginocchio Candreva Dovrebbe stringere i denti Per la botta Rimediata Alla schiena Però entrambi Sicuramente Li vedremo In panchina Almeno Aspettiamo Cosa Succederà Quest'oggi Durante La rifinitura Allenamento Che potrete seguire In diretta Su Sport Mediaset Sulla nostra app Sul sito Quindi giornata Molto importante Per vivere insieme Questa vigilia Ore 13.30 In diretta La conferenza stampa Di Antonio Conte Le sue parole Prima di una gara Così importante Che potrete vedere Questa La notizia Bella Domani Ore In diretta Su Canale 5 Dalle 21 Per Una sfida Così Chiave C'è anche la diretta E l'esclusiva Di Sport Mediaset In chiaro Quindi Non facciamo Non vi facciamo Mancare Mai Nulla Con Candreva E Asamoah Che dovrebbero andare in panchina Quindi Le scelte sono veramente limitate E c'è ben poco Che può inventarsi Antonio Conte In difesa giocherà Godin Lui è un esperto Lui sa come si ferma E si batte Il Barcellona Con De Vrij e Skriniar Davanti ad Andanovic A destra D'Ambrosio A sinistra Biraghi A meno che Lazzaro Non abbia questa chance Così importante Ed Ambrosio Vada sull'altra fascia Con Brozovic Vessino E Borca Valero In mezzo al campo Lukaku Notaro Martinez La formazione È presto fatta Champions Da cui dipenderà Anche il mercato Dell'Inter Che sta entrando nel vivo Con I nerazzurri Che sono Diciamo Attivi Su diversi Tavoli La novità Delle ultime ore È che Marco Salonso Potrebbe essere Visti anche i problemi Di Asamoah Un'alternativa Molto credibile Per la fascia Sinistra Il Chelsea Che ha Ottenuto Lo sblocco Del suo mercato Sta pensando E può Andare a Prendersi Dei rinforzi E quindi Diventa molto Caldo Il nome di Marco Salonso Che Con Con cui conta Ha vinto una Premier League Che ha un rapporto Privilegiato Con il tecnico Grande stima Tra i due E sarebbe Veramente un acquisto Molto importante Per la sua capacità Di spingere Su quella fascia Sinistra Dove Siamo un po' Carenti E anche Di realizzare Gol Importanti Senza Senza Dimenticare Anche L'abilità Nei calci Piazzati Cosa in cui Anche qui L'Inter Ha bisogno Di qualcuno In grado Di segnare Su punizione Oltre Assensi Marco Salonso Quindi Per la fascia Sinistra Poi Rodrigo De Paul Con l'Udinese Che Sembra abbastanza Tranquilla In classifica Che è riuscito A fermare Anche Il Napoli Potrebbe arrivare L'ok All'accessione Per una valutazione Tra i 25 28 milioni Con l'insegnamento Di qualche Contropartita Tecnica Si è parlato Di Marco Del presto Di Agumet E quindi Rodrigo De Paul Potrebbe essere La mezzala Che aiuterà Antonio Conte Ma anche Col Barcellona Si faranno Nuovi discorsi Su Vidal E qui vedremo Se ci sarà Un'apertura O meno A un Prestito O a una Soluzione Come chiede L'Inter Magari Inserendoci Un diritto Di riscatto Insomma Il preferito Di Conte Lo sappiamo È Vidal Per la sua Esperienza Per la sua Capacità Anche se Marotta È un po' Dubbioso Però Questo primo Posto In classifica Deve dare Entusiasmo Forza E voglia Di credere In un'impresa Con La società Che Assolutamente Vuole Assecondare Vuole dare A Conte Il meglio Per provarci Subito Però Molto dipenderà Appunto Dalla partita Di domani Con il Cessi Si parla Anche di Giroud Che Potrebbe quindi A questo punto Col mercato Sbloccato Arrivare Con condizioni Con condizioni Con condizioni più Favorevoli Ma appunto Dipenderà Dalla qualificazione O meno In Champions Dal recupero Di Sanchez E poi c'è quel sogno Di cui parliamo In questi giorni Con Commesso Che è aperto Alla cessione Alla cessione Di Chiesa L'Inter Che farà Un tentativo Per regalarlo Subito A Conte O se no Cercherà Di Mettersi In pole position Per l'estate Magari Dando subito Politano Ai Viola 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 che ricordiamo Saranno i prossimi Avversari In Campionato Viola In grossa Crisi Dopo la sconfitta Anche con Il Torino Quindi forse Anche questa situazione Potrebbe un po' Impedire La cessione Di Chiesa A Commesso Ma tutto Però Si vedrà Si vedrà Adesso L'Inter Non deve pensare Al mercato Non deve pensare Agli agenti Di Lautaro Che sono a Milano Che spingono Per il rinnovo Che vogliono Un aumento D'ingaggio A quella clausola Da 111 milioni Che spaventa un po' Tutti i tifosi Nerazzurri Ma al contrario Bisogna pensare Solo e soltanto Alla sfida Contro il Barcellona E serve L'impresa Unità di intenti Per una gara Così importante Che andiamo a vedere Come presentano I giornali In edicola Questa mattina Corriere dello sport Con In prima Pagina Le parole Di Fabio Capello Che vede Una corsa a quattro Con anche la Roma Oltre a Lazio Juve E Inter Che si giocano Lo scudetto Inzaghi Ha riportato Il calcio Al suo ABC E la qualità Che fa Il bel gioco Da noi non si dribbla più Gli arbitri fiscano troppo Un'idea per il VAR Domani in Champions Si vedrà Chi ha personalità Poi crisi Napoli Ancelotti Tiene duro E non si dimette Con la crisi Della Fiorentina Il Milan Che torna a vincere Anche in trasferta A Bologna Dopo la vittoria Con il Parma Insomma Un Milan Che si riprende Inter Gli ottavi Valgono un colpo Come vi avevo detto Sarà fondamentale La qualificazione Agli ottavi Che porterebbe in cassa Altri 15 milioni In totale 60 da investire Sul mercato Con anche Il ricavato Della cessione Di Gaviglio Torna D'attualità Marco Salonso Vecchio pallino E con il Chelsea Libero da vincoli Se ne può parlare Si parlerà Anche di Giroud Con il Chelsea E poi Per il Corriere dello Sport L'Inter A gennaio Ha un sogno Non è chiesa Per il Corriere dello Sport Ma Eriksen In scadenza di contratto A fine stagione Mourinho Con Mourinho È sempre partito Dalla panchina In due gare su cinque Oppure è rimasto seduto Il club nera-azzurro Ha già parlato Con gli agenti Del giocatore E corteggiato anche Da altre squadre Mentre Ausilio In un recente viaggio a Londra Ha affrontato il discorso Con gli Spurs Pare però Che la richiesta Per averlo subito Sia elevatissima Una cinquantina Di milioni Che però Potrebbero pesare Di meno Se l'Inter Riuscisse Nell'impresa Champions Con I due capitani Che domani Si raggiocheranno Con la fascia Antirazzista Bu Come ha Comunicato l'Inter Ieri Con la foto Già di Andanovic Con Al braccio La fascia Da capitano Antirazzista Naturalmente Siamo con l'Inter Per tutte queste Iniziative All'avanguardia Per questo problema Per questo problema Che continua A non essere risolto Soprattutto in Italia E noi Anche con la maglia Di Lukaku Vogliamo Essere Di quella Andare in quella direzione Pum pum In prima pagina Sulla gazzetta dello sport Piontek torna a segnare Il Milan torna a sognare Sarrismo Manovra anticrisi La Juve E quei lampi Anche di Ronaldo Ma in mezzo è un rebus Inter Si chiede la gazzetta Arriva il Barca 2 Incasto record E dubbio messi Mercato Alonso In pole A sinistra Andiamo all'interno La rinascita Del Milan Con Pioli Soddisfatto Per la vittoria La crisi Juve Si riparte Da quei 35 minuti Pressing Cristiano Il carattere Juve Sarri Ha le chiavi Per tornare lassù Prima del crollo Con la Lazio Il gioco Bianconero Era in crescita Sacchi Difende Sarri Sollievo Bentacur Strano Centrocampo La Juve ha fiato corto Dovrebbe stare fuori L'uruguayano Solo Dieci giorni Conte Antonio Le 23 firme Sull'Inter Da primato Una notte da record Col Barca Pure Di incasso Il tecnico Ha impiegato Tutti i calcettori Di movimento Uomo per uomo Ecco cosa si aspettava E cosa ha avuto La notte europea Fa felice Zang Superate i 6 milioni E mezzo Del match Con la Juve Il più ricco Incasso Di sempre In Italia Nonostante Non sia Tutto esaurito Ci siano ancora I due settori Chiusi per sicurezza Nel terzo anello Il Barcellona Come spartiacque Della stagione L'Inter Dalla rosa corte Dagli infortuni Lunghi Pensa La partita di domani sera Almeazza Ma continua A sondare il mercato Anche perché Gennaio Ormai è dietro l'angolo Alla voce Champions Antonio Candreva Va verso il recupero Del mal di schiena Mentre Asamoah Continua ad essere Tormentato dal ginocchio Sinistro Col Barca Potrebbe essere in panchina Ma solo per onor Di firma Via d'uscita Marco Salonso Può lasciare i blues Marotta vuole uno Che spinga E leggiamo Anche all'interno Non convocato Nelle ultime sei partite Quindi pochissimo spazio Con Lampard Che gli preferisce Emerson Palmieri A Spiliqueta Un Chelsea Che vuole anche Chilwell Dell'Eister E quindi rinforzarsi Ulteriormente Acquistato Nel 2016 Per 27 milioni di euro Dalla Fiorentina Chiaramente La valutazione È scesa Drasticamente Penso che valga Adesso Visto il poco utilizzo Di questa stagione Una decina di milioni Che l'Inter Sicuramente potrà Pagare E sarebbe veramente Un Rinforzo Importantissimo E di spessore Marcos Disse così Di Antonio Conte L'anno scorso Ha dimostrato Di essere un grande allenatore Un vincente Può far bene ovunque E sono sicuro Che presto Troverà una squadra E aveva Naturalmente Ragione Turnover Barsa Dubbio Messi Vidal c'è Valverde Pensa la Liga Con l'Inter Tanti cambi Leo decide oggi Se volare A Milano L'inviato Corrispondente Dalla Spagna Filippo Maria Ricci Fa il punto La lista dei convocati Di oggi Arriverà in tarda Mattinata Proviamo a fare Una formazione Leggiamo In porta Il portiere di riserva Neto Vecchia Conoscenza Al calcio italiano Poi Vague e Fir Poterzini Un Titi e Todibo Centrali A centrocampo Vidar Rakitic E Alenia Davanti due canterani Carles Perez E Ansu Fatih Con Griezmann Valverde Non teme critiche Da chi potrà essere Pregiudicato In caso di sconfitto O prestazione Sotto tono Del Barsa Che però Comunque Negli ultimi anni Già qualificato Primo del girone Spesso Non si è fatto battere Quindi L'Inter Dovrà fare Ancora di più E non dovrà Essere tranquilla Per queste Assenze Concludiamo anche La nostra lettura Dei quotidiani sportivi Andando a dare uno sguardo A tutto sport Andiamo a vedere Come Riporta In prima pagina Insomma Questi problemi Della Juventus Terapia d'urto La foto di Sarri Un titolo D'impatto Rosso Juve in ritardo Rispetto alla scorsa Stagione Ben sette punti In meno E sei gol Segnati In meno Sette gol Subiti In più Ecco la ricetta Per il rilancio Poi la vittoria Del Torino Molto importante Per La squadra Di Cairo Sarri vuole più gol Meno distrazioni Però sono sereno Pronto intervento In difesa Troppe leggerezze Difficoltà legata Al cambio Nel modo di difendere Ci stan Emergenza in mezzo Bentacur Però Punta a tornare In dieci giorni Con le Difficoltà Della Juve Lukaku Voglia d'Europa Dopo lo Slavia Assalto al Barca Il Belga Si è sbloccato All'ultimo turno Di Champions Adesso deve trascinare L'Inter Alla grande impresa Il centroavanti Il centroavanti è stato Devastante con i cecchi Un gol Due assist Una traversa E due reti annullate Una fascia Contro il razzismo L'abbiamo già detto I dubbi sulle fasce Per le condizioni Difficili Di Candreva E Asamoah Vedremo tra poco Da piano Mi raccomando Quindi giornata importante Sport Mediaset Eccoci qui L'app L'allenamento in diretta E poi anche su tutto sport Spunta L'ipotesi Alonso Sarà Barcellona 2 Però i nerazzurri Non devono fidarsi Col primo posto assicurato Valverde Dà spazio Alle alternative Quando è successo in passato I catarani Non hanno mai perso Quindi Naturalmente Dopo questa Vi salutiamo così Con occhiali scaramantici Uniti compatti Verso questa impresa Così importante Sempre sintonizzati Iscrivetevi al canale Sport Mediaset Tutto c'è Anche la maglia di Lukaku Mi raccomando